La coppia. Eh, infatti. Oh, questo è bello, girandola. Il mio preferito, lo sa, tra i miei preferiti. Sì, sì. Perché qui lei arriva instant. Sì, certo, io taglio sempre il traguardo qui. Certo, certo, certo. Adesso cercherò di impegnarmi. Sì, sì, impegni. E non passerò al centro. Abbiamo avuto la stessa in merda. Appena l'ho vista vicino, subito, ho detto questo è il mio momento. Te. Te chi? E poi se ne è pure annata, cioè mi sta pure a prendere una pista, io boh. No. Fatemi passare che l'ara è qui alle mie calcagna. Guardi, vandi di sportiveggianza. Si distingua dalla massa. Guardi, guardi come mi distingo. Guardi, hop. Adesso lei rimane incastrata lì dietro, lo so, lo so. No, 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 no. No! Non vale! Ah, io me ne vado di qua allora, eh. Mannaggia, potevo andare di qua, ero già superata, eh. L'ho voluta seguire. Per essere politicamente corretta. Cioè io non ci credo, non ci credo, sono arrivata, ma quando mai? Perché mi ha trattenuto uno, se no arrivavo anche prima. Sì! Seguite, seguite le imprese di Lara. No! Aiuto! No! Adesso ho perso la concentrazione, non so più dove sono. Ce la può fare, ce la può fare, no! Oh no, non si faccia, buttare giù! Non ne la posso fare! Non ne la posso fare! Lì, lì, si infili, si insinui, brava! Bravissima, presto! Brava! Madonna, ma cos'è? E ce l'abbiamo fatta per il rotto della cuffia! Colpa sua però, eh, perché mi ha trattenuto all'inizio. Eh beh, certo, ovvio!